Abbiamo arrivato circa 50 persone, oggi siamo qui 300, solo su Wink, quindi siamo una famiglia direi cospicua e questo ovviamente ha portato dei problemi, dei problemi di Amalgama, come diceva un tempo massimino, il risultato di calcio, voleva contrarre Amalgama, se voi potremmo dire un domani, quando saremo un po' più vecchiarelli, che abbiamo partecipato a questa impresa, che è stata un'impresa sicuramente, quello che noi abbiamo fatto è scontato un primo piccolissimo passo, di cui dobbiamo andare a lavorare sicuramente, e sicuramente dovremmo migliorare per il futuro, adesso ci attenziamo a fare quello che abbiamo fatto fino ad oggi, a riflettere un attimo e a codere di questo momento, che è sicuramente un momento importante, e a cambiare lo discorso, abbiamo lasciato una settimana di tempo per vedere se non tornasse tutto, grazie a Dio non è crollato e quindi possiamo festeggiare. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato, molti di loro, molti di attore che oggi non ci sono, patricia, patricia, patricia dov'è, a trombata, forse ci vediamo per la giugna, forse. Grazie a tutti. Grazie. 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 Alla bellezza. Abbiamo sottotitica. Facciamo finta che ce ne andiamo Roberto... Tu devi trovare i siti, non devi girare con la telecamera, devi trovare i siti Ciao Santo Arriva, arriva E' abbastanza, quel naso lì, è incredibile Diceva mio nonno che chi di naso perisce, di naso sfonda, di naso fonda, di pisello sfonda E' bellissimo